Roma è una città che è strettamente legata a lei, alla Roma di Ananagnani, questa folla di Roma. Adesso addirittura divento la proprietaria di Roma, che bellezza al film. Sì, la folla di Roma dei suoi film, il sente sempre che è la sua Roma o no? No, è cambiatissima Roma. Roma non la riconosco più, solo in certe rare sere d'estate. Ecco, quando Roma si spopola a Ferragosto, per esempio, esci per strada e ritrovi Roma come era una volta. A me sembra che la gente sia impazzita tutta.